Allora, perché comunque siamo un'azienda che ha grande espansione, azienda leader del mercato, che appartiene a un gruppo nazionale, multinazionale, che è di nuovo molto in espansione nel mercato internazionale e soprattutto perché noi cerchiamo di offrire soluzioni ecosostenibili ai nostri clienti. Siamo in effetti molto impegnati sull'aspetto sia dei clienti che dei fornitori per quanto riguarda l'elecosostenibilità. Abbiamo azioni che vanno a far conoscere ai nostri clienti quali possono essere le soluzioni per avere meno impatto sull'ambiente, ma abbiamo anche azioni nei confronti dei fornitori e soprattutto nei confronti dei nostri dipendenti. Abbiamo azioni molto importanti che riguardano il bilanciamento vita-lavoro e quindi il fatto di avere asile nido per i nostri genitori in azienda, il fatto di fare part-time post-maternità e anche il fatto di adottare soluzioni proprio per il famoso bilanciamento vita-lavoro. Un altro motivo è il discorso che ci riteniamo un'azienda evergreen, quindi non nel senso un'azienda giovane solo di età, anche se comunque la media aziendale è di 34 anni, ma nel senso giovane è l'approccio alla soluzione dei problemi. Cerchiamo sempre di ottimizzare, di avere un approccio estremamente positivo ai problemi con l'entusiasmo del giovane che non finisce mai di sperare in un futuro migliore.